I fondi europei in Toscana aiutano a realizzare progetti per un futuro più sostenibile, a riqualificare centri storici e a creare nuove opportunità, come a Livorno dove il presidente Rossi si è recato per la sesta tappa del tour l'Europa in Toscana per vedere i progetti realizzati grazie ai fondi europei, dai sistemi tecnologici della VAS Leonardo Finmeccanica alla Casa del Futuro, nata dalle idee degli studenti dell'Istituto Buontalenti Cappellini Orlando, fino al Polo di Alta Specializzazione, nato allo scoglio della Regina e al progetto Sicomar Plus per prevenire gli incidenti nella navigazione. E poi le idee innovative presentate alla Camera di Commercio sviluppate proprio grazie ai finanziamenti europei. Io penso che non c'è prospettiva per il futuro se non dentro una dimensione europea, di fronte a un mondo che è organizzato per grandi nazioni continente, la Cina, l'India, gli Stati Uniti. Se l'Europa non si mette insieme diventiamo staterelli che si dividono a loro volta in staterelli come qualcuno vorrebbe e non andiamo da nessuna parte. Però l'Europa e anche queste politiche che penetrano nella cultura di una nuova cittadinanza europea che questi ragazzi esprimono, politiche ambientali, politiche di sostenibilità, politiche di investimenti sulla ricerca e l'innovazione, politiche sociali. Prima tappa del tour livornese alla ex VAS Leonardo Finmeccanica specializzata nei sistemi di difesa Subacquei che grazie ai fondi europei ha realizzato innovativi strumenti per l'esplorazione dei fondali marini come il Wufides, un dispositivo teleguidato finanziato con 2 milioni e 111 mila euro che rimane stabile anche con forti correnti per raccogliere dati in tempo reale. Una delle nostre missioni è quella di mettere queste tecnologie a fattor comune anche in campo civile, utilizzare quindi investimenti e finanziamenti della regione toscana così come della regione europea per sviluppare prodotti in campo civile di derivazione militare con l'evoluzione delle tecnologie. Tecnologie che abbiamo in questa realtà sono principalmente generazione di accumulo di energia, oggi siamo player mondiale nel campo della generazione di energia sui nostri prodotti e all'interno di Wufides così come di Protone che è l'altro prodotto che abbiamo visto, l'evoluzione della tecnologia di accumulo di energia porta oggi a fare un salto tecnologico che ci porta ad essere state of the art nel campo della generazione di energia. Con i fondi europei del PORFESRE, il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, Leonardo ha realizzato anche altri progetti come quello per l'impiego di tecnologie wireless in ambienti ostili alle tradizionali radiofrequenze. Qualche anno fa la VAS era nei problemi, si pensava addirittura ad un forte ridimensionamento, non è di peso certo da noi però abbiamo dato importanti contributi europei e adesso si guarda al futuro e si guarda ad altre cose che potrebbero creare anche molta occupazione. Siamo stati vicini a tutto il settore della ricerca, anche quello dell'automotive attraverso ancora contributivi per l'innovazione tecnologica e poi si apprende qui che c'è anche una ricerca importante, interessante, anche questa che noi affianchiamo ovviamente legata al settore della nautica ma anche alla presenza della grande azienda ospedaliera universitaria e della sanità in Toscana. Con 120.000 euro, metà dei quali provenienti dal Fondo Sociale Europeo, gli studenti dell'Istituto Superiore Buontalenti Cappellini Orlando di Livorno hanno realizzato un prototipo di casa intelligente, seconda tappa del tour del Presidente Rossi. La casa è biocompatibile, realizzata in legno e capace di ridurre del 20% i costi per l'illuminazione. Abbiamo approfittato tra virgolette dei finanziamenti che il Fondo Sociale Europeo e la Regione hanno messo a disposizione, un progetto molto impegnativo, li ha messi sul campo e quindi si è trattato di un vero e proprio cantiere, quindi con tutta la necessità di vedere autorizzazioni, soprattutto nel campo dell'aspetto della sicurezza è stato curato in modo particolare e abbiamo avuto in due anni 120 ragazzi che si sono succeduti, non in maniera settoriale ma girando e verificando le diverse attività che si dovevano svolgere. La casa intelligente può anche diventare un modulo da utilizzare nei campi di emergenza allestiti quando si verificano calamità naturali come i terremoti. Anche grazie ai contributi dell'Unione Europea che noi gestiamo, e penso li stiamo gestendo bene, perché come vedo i toscani rispondono bene, questi ragazzi hanno potuto fare un'esperienza concreta, un'esperienza di costruzione di una cassa che sia ambientalmente avanzata, ecosostenibile, dove ci sia risparmio energetico, dove si possa vivere bene e dove anche i costi siano contenuti, che appunto sono proprio gli obiettivi ambientali, gli obiettivi dell'economia circolare che ci può nell'Europa. Terza tappa della giornata livornese del Presidente Rossi, la Camera di Commercio, dove sono stati presentati quattro progetti innovativi che senza i fondi arrivati dall'Europa forse non avrebbero visto la luce. Presente è anche l'assessore a istruzione, formazione e lavoro Cristina Grieco, che ha ricordato l'importanza della creazione di alleanze formative tra scuola e imprese anche grazie all'impiego dei fondi europei. Quello che stiamo cercando di fare attraverso questi finanziamenti con il supporto della regione toscana è proprio creare alleanze orizzontali, cioè fra scuole, organismi formativi e imprese e professioni, ma anche verticali per rafforzare quelle che sono le filiere strategiche della nostra economia regionale. Tra i progetti illustrati, la capsula automatizzata per sterilizzare i ferri chirurgici a cui l'Europa ha contribuito con 166.510 euro. Qual è l'elemento innovativo di questo progetto? Finalizziamo le attività di ricerca e sviluppo alla eliminazione delle parti più rischiose e fastidiose manuali, implementando una logica industriale nel trattamento e nella sanificazione dei ferri chirurgici e quindi un approccio maggiormente industriale di automazione di queste fasi di sanificazione e di tracciatura dei ferri stessi e del box di contenimento. Proveniente dall'UE, anche la metà dei 56.400 euro necessari per realizzare gli occhiali digitali da ingrandimento stabilizzato per i chirurghi del progetto Mavi Ultravista. Il progetto si basa sul fatto di ottenere un ingrandimento stabilizzato dell'immagine per dare la possibilità in fase di intervento chirurgico un miglioramento della visione dell'intervento stesso. In questa maniera dovremo garantire al chirurgo un'immagine ad alta risoluzione per quello che riguarda l'intervento. Tra i progetti presentati alla Camera di Commercio anche Yacht for Yacht di Team Italia che sui 320.000 euro di costo totale ha visto arrivare 80.000 euro di fondi dall'Europa per la manutenzione e telemanutenzione delle grandi navi. Una delle cose più importanti e forse innovativa di questo progetto è legata alla prognostica, cioè alla possibilità di prevedere i guasti attraverso l'analisi dei dati, quindi attraverso lo storico dei dati che provengono dall'imbarcazione ci dà la possibilità di prevedere quale tipo di guasto potrebbe stare per avvenire. E poi c'è il progetto per i prototipi di sensori realizzati dalla Wiser, per cui sono arrivati oltre 32.000 euro su un contributo pubblico totale di 65.000 euro e una spesa complessiva di 187.000 euro. I fondi sono stati fondamentali perché senza questo tipo di finanziamento, anche per il business mob dell'aziendale, non ci saremmo potuti accollare totalmente lo sviluppo e grazie quindi al cofinanziamento siamo potuti riuscire ad avere questo tipo di prototipo che speriamo poi di portare avanti con fondi interni o altri tipi di finanziamento, arrivare a un prodotto con l'appoggio magari, col coinvolgimento magari di qualche azienda, grande azienda. Il tour del Presidente Rossi si è poi spostato allo scoglio della Regina, dove un tempo si incontravano il traffico marittimo e quello fluviale e dove oggi, con una riqualificazione urbana finanziata con 5.616.000 euro del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, è nato il polo della logistica, della biologia e della robotica marina. Lo scoglio della Regina nella sua restituzione al territorio di fatto è uno, come a me piace dire, uno scolastico esempio di integrazione di quelle che sono le istituzioni, sono le conoscenze, sono le competenze e sono i saperi che ogni istituzione mette insieme in quella che è la tematica del mare, quindi la biologia marina, i robot marini, l'ambiente e questo ovviamente è un valore aggiunto a quella che è la ricerca, la ricerca applicata, l'innovazione e il trasferimento tecnologico. Ultima tappa, la Capitaneria di Porto, dove è stato illustrato il progetto Sicomar Plus realizzato con il programma Interreg con l'ambizioso obiettivo di ridurre i rischi legati agli incidenti nella navigazione, con l'installazione di due nuove antennerà dalla Talamone e Castiglione della Pescaia. La regione ha contribuito con 1.483.000 euro sui 6.688.000 di costo totale. Associare come fa questo progetto Sicomar Plus la sicurezza della navigazione alla sicurezza ambientale è veramente un obiettivo molto significativo, in un'area fra l'altro che è quella dell'intera costa toscana, dell'intera toscana marittima che contiene un'area marina protetta che è quella delle secche della Meloria, un parco nazionale dell'arcipelato toscano che è il più grande d'Europa e è parte integrante e molto significativa del santuario dei cetacei. Vi sono sempre iniziative che mirano a tutelare specie protette, per cui voglio dire progetti come questi, implementazione dei fattori di sicurezza che associano sicurezza della navigazione e sicurezza ambientale credo che possano essere veramente un obiettivo da perseguire sempre con maggiore insistenza e importanza. Dal 2007 al 2013 a Livorno e provincia sono stati distribuiti oltre 121 milioni di euro per 5.005 progetti finanziati, nel settennato 2014-2020 ne sono stati distribuiti 53 milioni per 1.663 progetti, sempre nel settennato 2007-2013 in tutta la regione il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale ha distribuito 1 miliardo e 298 milioni di euro che hanno mosso 2 miliardi e 309 milioni di investimenti. Il Fondo Sociale Europeo ne ha erogati 659 milioni, mentre il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale ha erogato 870 milioni di euro.